Il nostro incubatore non è monotematico, è aperto a tutte le idee di impresa con un contenuto innovativo o alle start-up che hanno meno di 12 anni di vita. L'incubatore è un modello di sviluppo, non è solo un posto fisico, ma il valore aggiunto della certificazione ministeriale è il modello di incubazione, cioè i criteri di scelta delle idee e il modello di accompagnamento nei primi anni di vita dell'impresa fino al suo posizionamento sul mercato. Questo è il valore aggiunto del ministero, finalmente riconosciuto da Regione Lombardia.